Quando affrontiamo una crisi di qualsiasi tipo, paura e ansia sono inevitabili, sono normali risposte e reazioni naturali dell'organismo dinanzi a qualsiasi situazione di sfida, pericolo, minaccia e incertezza. Affrontare il Covid è una serie di passi pratici per gestire tale situazione di emergenza. F sta per focalizzati su ciò che puoi controllare. Non puoi controllare ciò che accadrà nel futuro. Non puoi controllare il coronavirus e nemmeno l'economia mondiale. Non puoi controllare quello che faranno le altre persone. E non puoi neanche, come per magia, pretendere di controllare i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti. Paura, ansia e preoccupazione sono ineluttabili. Ma puoi sempre controllare quello che stai facendo qui ed ora. Quindi focalizzati su questo. A sta per raccogli e nota i tuoi pensieri e le tue emozioni. Silenziosamente e gentilmente, osserva e riconosci qualsiasi cosa si stia mostrando dentro di te ora. Pensieri, sentimenti, emozioni, ricordi, fantasie, sensazioni, impulsi. Con curiosità nota cosa sta succedendo nel tuo mondo interiore. Potresti dire a te stesso Sto notando sentimenti di ansia O sto avendo pensieri sull'essere contagiato e ammalato O sto sentendo sentimenti di solitudine e ad abbandono E continua a riconoscere i tuoi pensieri e le tue emozioni Tutto ciò ti consentirà di accedere al passo successivo. C sta per connettiti e ritorna al tuo corpo Trova il tuo modo per riconnetterti con il tuo corpo Per esempio potresti provare a premere lentamente con forza i piedi sulla superficie del pavimento O premere lentamente e insieme i polpastrelli delle tue mani Allungare lentamente le braccia, il tuo collo e scrollare le spalle O ancora respirare lentamente E mentre riconosci i tuoi pensieri e le tue emozioni E li riconnetti al tuo corpo Passa allo step successivo E che sta per entra nel mondo dell'azione e impegnati in quello che stai facendo qui ed ora Riorienta la tua attenzione sulle attività da svolgere Trova il tuo modo personale per farlo Guarda intorno al posto in cui ti trovi e nota cinque cose che puoi vedere Nota cinque cose che puoi sentire Nota quello che i tuoi sensi possono contattare Impegnati in quello che stai facendo E dedicali tutta la tua massima attenzione È la condizione per passare allo step successivo C Che sta per compiere azioni impegnate Ossia azioni efficaci e guidate dai tuoi valori fondamentali Azioni che scegli perché sono importanti per te Anche se suscitano pensieri ed emozioni difficili Naturalmente questo include anche la tenerti alle linee guide ufficiali Su cosa fare durante questa crisi Ma in aggiunta chiedetevi quotidianamente Cosa posso fare giusto in questo momento Per quanto piccolo possa essere Che concorra a migliorare la mia vita E quella delle persone della mia comunità E qualunque sia la risposta Fallo e impegnati a fondo O sta per open Ossia apertura E significa fai spazio ai sentimenti difficili E sii gentile con te stesso Mentre questa crisi si sviluppa Tutti sentiremo paura Rabbia Ansia Tristezza Senso di colpa Solitudine E così via Non possiamo fermare questi sentimenti dolorosi Ma puoi sempre aprirti E fare spazio ad altre esperienze Perché riconosci Che è normale ciò che stai sentendo Così puoi permettere alla sofferenza Di albergare dentro di te Senza tuttavia esaurire la tua gentilezza Considera le parole gentili Che puoi continuare a ripetere a te stesso Puoi dirti Fatti forza Cara mia Caro mio O altre affermazioni simili Che possono nutrire Di gentilezza Questo momento di sofferenza Di Sta per valori Le tue azioni impegnate Dovrebbero essere guidate Dai tuoi valori fondamentali Cosa vuoi fare Di fronte a questa crisi Che tipo di persona Vorresti continuare ad essere Come vuoi in questo periodo Trattare te stesso e gli altri I tuoi valori potrebbero includere Il rispetto L'amore L'umorismo La pazienza Il coraggio L'onestà La primura La disponibilità La gentilezza La compassione O numerose altre Cerca il modo di cospargere E diffondere i tuoi valori Nella tua giornata E permettegli di guidare E motivare le tue azioni I sta per identificare le risorse Le risorse per l'aiuto L'assistenza Il sostegno E consigli Le risorse includono amici Famiglie Vicini Operatori sanitari E servizi di emergenza Assicurati Di conoscere I numeri di emergenza Di sta per disinfetta E distanziamento Ricordati di disinfettare Le mani regolarmente E usa il più possibile Distanziamento sociale Per il bene Per il bene della tua comunità Bene Spero davvero Questi suggerimenti Possano esserti stati utili E sentiti libero E condividerli Con chi vuoi Questo momento Molto difficile E spaventoso Quindi cerca di trattare Te stesso In modo gentile E ricorda Le parole Di Wilson Churchill Se stai attraversando L'inferno Non ti fermare E fallo A testa alta